Hanno tra i 125 e i 113 milioni di anni le prime orme di dinosauro scoperte in Abruzzo da un gruppo di ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e studiate assieme a un team di Cnology dell'Università Sapienza di Roma. La scoperta arricchisce il panorama delle impronte di dinosauro presenti nel nostro paese fornendo informazioni sugli animali che passeggiano sulle spiagge italiane del Cretaceo e sui loro comportamenti. I risultati di questo ritrovamento sono stati pubblicati sulla rivista Cretos Research. Le tracce, afferma Fabio Speranza, ricercatore dell'NGV, sono osservabili su una superficie calcarea quasi verticale situata a oltre 1.900 metri di quota sul Monte Cagno. La superficie a orme è raggiungibile solo in assenza di neve, quindi essenzialmente nei mesi estivi e autunnali dopo un'escursione di circa due ore partendo dal paese di Rocca di Cambio in provincia dell'Aquila. Tra queste è stata rinvenuta anche una traccia di ben 135 cm di lunghezza che costituisce la testimonianza del più grande dinosauro bipede che sia mai stato documentato in Italia fino ad oggi. La maggior parte di queste impronte fu impressa da uno o più teropodi, dinosauri bipedi prevalentemente carnivori, che camminando affondavano nel fango, molto probabilmente per la debole consistenza del substrato. Altre orme, invece, conservate al centro della superficie calcarea, sono state lasciate da un teropode accucciato. Le impronte, scoperte casualmente nelle strade 2006, Procedo e Speranza, si trovavano su una superficie calcarea di età cretaceo inferiore e facevano pensare a impronte di dinosauri. Ma solo nelle strade 2015, grazie agli sviluppi tecnologici e alla collaborazione con esperti di impronte dell'Università della Sapienza, è stato possibile dare un nuovo impulso alle ricerche. Un drone, in grado di trasportare una macchina fotografica digitale e l'uso dell'innovativa tecnica della fotogrammetria digitale, hanno consentito di ricostruire un modello tridimensionale accurato a partire da semplici immagini fotografiche. Grazie a questa tecnica, che ha avuto origine in ambiente cinematografico per il film Jurassic Park, è stato possibile lo studio del dettaglio dell'impronte della parete subverticale, riportandola in ambiente virtuale facilmente analizzabile al computer.